E' avvenuto un incidente ad alta tensione a Cariati, dove un uomo ha sparato un colpo di pistola verso la finestra di un'altra persona dopo un litigio. Sembra che alla base di questo gesto pericoloso ci sia stata una disputa personale tra i due individui coinvolti. I dettagli della vicenda sono ancora oscuri, ma la gravità dell'azione è innegabile, considerando le possibili conseguenze drammatiche. La situazione sembra essere iniziata la mattina di lunedì, quando i due soggetti, entrambi residenti nella zona, sono stati coinvolti in un acceso litigio. La tensione è perdurata per tutta la giornata, fino a quando ognuno è tornato a casa propria. Tuttavia il rancore accumulato ha spinto uno dei due a compiere un gesto estremo. Pare che abbia preso una pistola, si sia recato sotto casa del suo avversario e abbia sparato un colpo contro una finestra dell'abitazione. Fortunatamente la pallottola ha mancato il bersaglio umano, ma la gravità dell'atto rimane immutata, poiché ha messo a repentaglio l'incolumità di altre persone.